Carissimi amici di Fede e Cultura, il Novecento non è stato soltanto il secolo degli orrori su larga scala e per quanto riguarda la Chiesa Cattolica non è stato solo il secolo del modernismo, dei vari George Tyrell, Teilhard de Chardin, Karl Rahner, Gustavo Gutierrez e tutti gli altri epigoni del modernismo. No, il Novecento, bisogna dire, ha visto anche il fiorire di tantissimi santi e anche importantissimi teologi che hanno vissuto e hanno difeso davvero la tradizione cattolica, dimostrando che le sfide della modernità possono e devono essere accolte senza per questo tradire il messaggio più autentico del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Tra questi giganti del pensiero cattolico troviamo sicuramente il dominicano Reginald Garigou Larange, nato nel 1877 e morto nel 1964. Garigou Larange è stato un grandissimo tomista, quindi un teologo che ha messo radici nel pensiero, nella dottrina teologica elaborata da Santo Maso d'Aquino, il dottore per eccellenza della Chiesa Cattolica. E bisogna dire che quest'autore, questo teologo, è stato davvero uno scrittore prolifico. Le sue numerose opere, ovviamente scritte in francese, perché egli era francese, sono state nel tempo tradotte in numerosissime lingue, tra le quali anche in italiano. E la casa editrice Fede Cultura si è ripromessa di, come una vera e propria missione, di pubblicare l'opera omnia, cioè tutte le opere di questo grande teologo, di questo cane del Signore. Voi sapete che San Domenico Guzman, il fondatore dell'Ordine dei Domenicani, amava definire se stesso e i suoi figli d'Ordine con questo appellativo, facendo un gioco di parola appunto sul termine Domenicano, per sottolineare la fedeltà che i Domenicani appunto avrebbero dovuto nutrire nei riguardi del Signore. E' stata appena pubblicata, dunque, questa ultimissima opera, tradotta e pubblicata. Quest'opera dà il sapore intensamente mariano, come del resto ci si aspetta da un autentico Domenicano. Voi sapete che San Domenico, grazie a San Domenico, per esempio, la devozione del Rosario, una delle più importanti devozioni mariane nella Chiesa Cattolica, ecco, grazie a San Domenico, questa devozione si è diffusa nella cattolicità. Ebbene, questa opera, dall'intenso sapore mariano, si intitola La madre del Salvatore e la nostra vita interiore. Vorrei ringraziare in maniera particolare il blog messainlatino.it, vero punto di riferimento per noi cattolici italiani amanti della tradizione, perché ha pubblicato una presentazione da me scritta per questo libro e che recalca sostanzialmente quanto ho visto per dire. Vi metto come sempre il link in descrizione per coloro di voi che preferiscono leggere e seguire in questo modo questo commento. Vorrei spiegarvi in poche parole la struttura di quest'opera e perché conviene acquistarla e leggerla, perché deve fare parte della vostra biblioteca personale. L'opera, che tra l'altro presenta la preziosissima prefazione di padre Serafino Tognetti, è suddivisa in due parti. La prima parte è dedicata alla maternità divina di Maria. Questo dogma, questa verità di fede, è ritenuto da Garigula Grange il dogma principe di tutti i dogmi mariani, cioè il dogma da cui scaturiscono tutti gli altri titoli che la Chiesa attribuisce a Maria. È infatti in virtù della sua predestinazione alla maternità divina che la Vergine Santa è stata destinata a questa salvezza in maniera tutta particolare. Tra le altre cose, Garigula Grange spiega in maniera sublime le ragioni più profonde del perché non solo possiamo, ma dobbiamo prestare quello che in teologia si chiama culto di iperdulia. Che cosa significa fuori dal complesso gergo teologico? Significa che alla Madonna noi dobbiamo prestare un culto speciale di venerazione, ma un culto diverso rispetto a quello che possiamo nutrire verso gli altri santi, proprio perché la Madonna ha un qualcosa in più. E in questo modo, quest'opera di questo grande Domenicano, ci aiuta a comprendere e a rispondere a tutte le obiezioni al culto mariano, che ormai sono numerose e provengono non soltanto dalle sette non cattoliche, dalle professioni protestanti, ma anche da dentro la Chiesa. Ci sono purtroppo tantissimi sacerdoti e persino vescovi, che più o meno esplicitamente ci accusano di prestare, diciamo così, troppo culto a Maria. Il grande Domenicano Garrigou Lagrange, invece, ripercorre, e si rifà più volte in capitoli proprio dedicati, si rifà al Magistero della Chiesa, alla testimonianza autorevole, sia della Sacra Scrittura che della tradizione degli Apostoli, oltre che ovviamente al suo amatissimo San Tommaso, al Dr. Angelicus, ripercorre, ecco, tutte le ragioni per cui è giusto tributare culto di perduria alla Madonna, e ripercorre anche gli eventi della vita di Maria, rileggendoli tutti alla luce di questo particolare privilegio, quello di essere niente meno che la madre, la madre di Dio. Quindi commenta con grande finezza teologica la convenienza dell'annunciazione, la visitazione alla cugia Santa Elisabetta, commenta il bellissimo inno del Magnificat, che troviamo nel Vangelo secondo Luca. e Garigou Lagrange commenta anche un altro importantissimo quanto difficilissimo dogma mariano, che è quello della verginità perpetua di Maria, cioè il fatto che Maria sia rimasta non solo spiritualmente, ma anche fisicamente vergine, prima, durante e dopo il parto. Un dogma che può sembrare, come dire, assurdo, soprattutto agli occhi dell'uomo moderno, ma Garigou Lagrange ci aiuta a capire qual è il senso di questo dogma che può apparire davvero strabiliante alle nostre orecchie. Poi ovviamente commenta la natività di Nostro Signore Gesù Cristo e il ruolo che la Madonna ha avuto nel grande mistero dell'incarnazione di Nostro Signore, la presentazione di Nostro Signore, la fuga in Egitto, la vita nascosta della Santa Famiglia a Nazareth, fino ad arrivare ai dolori che la Madonna ha dovuto affrontare sotto la croce di Nostro Signore sul Calvario, la Pentecoste, quindi la nascita della Chiesa, ed è molto interessante anche l'attenzione che Garigou Lagrange dà alla figura di Maria come modello, come lo chiama lui, modello di devozione eucaristica. Maria ha visto nel sacrificio della Messa il punto di unione del culto della Terra con quello del cielo. Poi c'è un'ampia parte diffusa anche per meditare sui doni particolari che Maria ha ricevuto dal Signore e anche sulle principali virtù di Maria, un capitolo molto interessante per approfondire la conoscenza della Madonna. La seconda parte di questo libro, di quest'opera, è invece la parte più mistica, quella dedicata alla nostra vita interiore, ma che trova ancora una volta nella maternità divina di Maria la propria ragion d'essere. Infatti scrive Garigou Lagrange che è proprio perché madre di Dio Maria è anche madre della Chiesa, cioè madre di noi tutti, credenti e battezzati. Ci sono all'interno di questa seconda parte due aspetti non di poco conto e che vorrei rimarcare perché contribuiscono a rendere questo testo ulteriormente prezioso e completo. Anzitutto il primo aspetto è il fatto che questo libro, quest'opera di Garigou Lagrange, chiarisce perché Maria ha ricevuto dalla Chiesa nel passato il titolo di corredentrice e perché Maria deve continuare a vedere riconosciuto questo titolo che, sapete, è stato molto osteggiato. negli ultimi decenni da diversi teologi. È un titolo che fa rizzare i capelli sulle teste di tanti teologi nostrani, più e meno modernisti, perché secondo costoro parlare di Maria come corredentrice in qualche modo priverebbe nostro Signore Gesù Cristo del titolo di redentore. Garigou Lagrange dimostra, ancora una volta, con il magistero, con la scrittura e con la tradizione apostolica alla mano, perché non c'è bisogno, non c'è da avere timore in questo senso. Ma l'altro aspetto che dà ulteriore valore a quest'opera è il fatto che si conclude con un'analisi della figura di San Giuseppe. Garigou Lagrange scrive che la venerazione a Maria non può essere dissociata dalla venerazione nei confronti di San Giuseppe, padre putativo di nostro Signore. è in quanto tale protettore speciale del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa Cattolica. Delle parole profondissime che servono davvero a entrare più in profondità in questo mistero. L'opera poi si conclude con, in appendice, sia delle preghiere, in particolare la preghiera di riparazione alla Beata Vergine Maria corredentrice, e la preghiera scritta da Papa Pio XII per la consacrazione della Chiesa e del genere umano al cuore immacolato di Maria. Infine viene riportata la Costituzione Apostolica, questo documento infallibile della Chiesa, con la quale è stato proclamato il dogma dell'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo in corpo e anima. Spero che quest'opera susciti il vostro interesse e vi assicuro che merita davvero. stiamo parlando di Reginald Gadigoulagrange, uno dei più importanti teologi tomisti del secolo scorso, e noi ci vediamo sul nostro sito www.fedecultura.com. Speriamo di vedervi numerosi come nostri clienti. Il vostro sostegno è veramente importante. E lo ripeto, noi di Fedecultura intendiamo pubblicare integralmente l'opera di questo grande Domenicano, di questo grande Servo del Signore. Grazie per la vostra attenzione e noi ci vediamo a un prossimo video. Buon proseguimento! Cari amici di Fede e Cultura, vi ricordo che abbiamo avviato una raccolta fondi per pubblicare l'autobiografia del grande sacerdote Stanley Iacchi, La materia di una mente. In home page sul nostro sito trovate nella sezione in evidenza per voi la pagina prodotto di questo libro, che per ora è ancora un progetto e che potrete sostenere acquistando il libro nel formato che trovate sul sito cartaceo con donazione. Il vostro generoso contributo ci aiuterà a diffondere la conoscenza di questo grandissimo storico della scienza cattolico, padre Stanley Iacchi. Grande benedettino, grande scienziato, Stanley Iacchi ha saputo dimostrare che scienza e fede cattolica non sono incompatibili, ma sono le due ali che elevano la nostra mente verso Dio, che ci garantiscono una comprensione migliore della nostra vita e della realtà meravigliosa che ci circonda. Sostieni anche tu il progetto La materia di una mente, l'autobiografia intellettuale di Stanley Iacchi sul nostro sito www.fedecultura.com Grazie a tutti!